Le mie prime sensazioni sono sicuramente molto forti, molto contento di essere qui, in un club del genere. La trattativa diciamo che lo sapevo già da un po', che la Sampdoria mi voleva, però fino all'ultimo minuto del mercato ho avuto la certezza di venire qui e sono rimasto veramente molto contento. Ho sentito il presidente, mi ha detto di stare tranquillo e che sono fortunato di essere in una società come questa e devo ridare la fiducia che mi è stata data. Il mio ruolo è l'esterno, indifferente destra-sinistra, preferisco sinistra perché sono destro, mi piace più accentrarmi e tirare. Le mie caratteristiche sono la velocità come primo piano, sono molto veloce, ho una buona tecnica e diciamo il fisico, devo migliorare ancora tante cose. Diciamo che ho scelto l'undici perché fin da bambino ho avuto l'undici, quindi mi ha portato fortuna. Con la Roma ho avuto la fortuna di stare per un bel po' di periodo con la prima squadra e non ho avuto la fortuna di esordire, ma grazie a questo nuovo capitolo spero di farlo qui e dare il mio grande contributo. Quando sono qui con la Roma, nello stadio della Sampdoria ho avuto tanti brividi perché è un grandissimo stadio e sì, mancavano i tifosi, ma spero di vederli presto. Un saluto a tutti i tifosi. Un saluto a tutti i tifosi.